Benvenuti! Oggi è il 3 ottobre e siamo pronti a scoprire cosa riservano le stelle per voi in questo nuovo mese. Iniziamo subito con l'oroscopo del giorno. Signoriete, oggi la tua energia è esplosiva. Sfrutta questa vivacità per avvicinarti a chi ami. La tua intraprendenza potrebbe trasformare una semplice chiacchierata in un momento indimenticabile. Non dimenticare di apprezzare le piccole gioie. È lì che si nasconde la vera magia. Sii pronto a cogliere le opportunità che l'universo ti offre e segui il tuo cuore. La tua determinazione oggi è la chiave per aprire nuove porte. Lasciati andare all'ignoto. Abbraccia il cambiamento e non temerlo. Perché ti porterà esperienze straordinarie. L'impulsività tipica di questo segno vi spinge a vivere l'amore con grande slancio. Ma anche con un pizzico di impazienza. Se siete in una relazione, potreste sentire il bisogno di agire subito per risolvere questioni irrisolte. Ma è importante non forzare le situazioni. La chiave del successo sarà la pazienza e la capacità di ascoltare il partner, anche quando i vostri punti di vista sembrano inconciliabili. I single, invece, potrebbero vivere avventure appassionate, ma fugaci. Segno Toro. Le energie di oggi favoriscono la stabilità e l'amore. Se sei in coppia, organizza una serata speciale per rafforzare il vostro legame. Se sei single, mostra la tua autenticità. Qualcuno potrebbe notarti. Sii grato per le bellezze della vita e lascia che la tua anima brilli. Medita e connettiti con la tua essenza. Questo ti porterà chiarezza e serenità. Abbraccia il tuo valore e lascia che l'amore scora liberamente. Chiudi gli occhi e ricorda che sei sempre nel momento giusto. Che l'universo è infinito e che, in un modo o nell'altro, tutto si sistemerà. L'equilibrio tra il cuore e la mente regna sovrano, permettendovi di affrontare situazioni sentimentali con chiarezza e serenità. La dolcezza che emerge in questi giorni vi renderà irresistibili, attratti da persone che sanno comprendere la vostra profondità emotiva. Per chi è già in coppia, l'intimità con il partner si rafforza, grazie alla capacità di ascolto reciproco e al desiderio di costruire qualcosa di duraturo. È un momento favorevole anche per fare un passo importante nella relazione, come una convivenza o un impegno più serio. La giornata si preannuncia interessante per quanto riguarda i nuovi incontri, sia in amore che nel lavoro. Segno gemelli. La tua curiosità è in piena fioritura. Oggi è il giorno perfetto per esplorare nuove connessioni e approfondire le relazioni esistenti. Condividi i tuoi pensieri e ascolta il cuore degli altri. La comunicazione è fondamentale. Esprimi i tuoi sentimenti. Non aver paura di mostrarti vulnerabie. È lì che risiede la tua forza. Prenditi un momento per riflettere sulla tua crescita personale e celebra ogni progresso. La tua anima è in viaggio verso qualcosa di straordinario. Rifletti su ciò che desideri veramente nella tua vita e nelle tue relazioni. Non trattenerti. I tuoi sogni sono validi e meriti di inseguirli con passione. Abbraccia la tua natura avventurosa e segui il tuo istinto. Ricorda. Ogni passo verso la tua autenticità ti avvicina a una vita piena di significato e soddisfazione. La dualità che vi contraddistingue si riflette anche nella vostra vita sentimentale, creando talvolta confusione tra ciò che desiderate e ciò di cui avete realmente bisogno. Ottobre vi invita a fare chiarezza, evitando di disperdere energie in relazioni ambigue o poco soddisfacenti. Se siete in coppia, un confronto aperto con il partner potrebbe chiarire malintesi e riportare armonia nel rapporto. Segno cancro. La tua sensibilità è un dono prezioso oggi. Abbraccia i tuoi sentimenti e non temere di mostrarli. L'amore che dai ritorna amplificato. Crea un ambiente caldo e accogliente per te e per chi ami. Dedica del tempo a te stesso, per meditare e riflettere sui tuoi desideri più profondi. Ricorda. Il tuo istinto è una guida potente. Seguendo il tuo cuore, troverai la strada verso la felicità e l'armonia. Sei capace di creare meraviglie. Oggi è anche un buongiorno per riflettere sui tuoi sogni e desideri. Cosa desideri veramente per il tuo futuro? Prenditi del tempo per scrivere i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni. Questo ti aiuterà a chiarire ciò che vuoi e a tracciare un percorso verso il successo. Ricorda. Sei una fonte di ispirazione per chi ti circonda. Non sottovalutare mai il potere della tua gentilezza. L'amore si tinge di sfumature delicate, portandovi a riflettere sulle vostre emozioni più intime. La sensibilità che vi contraddistingue si rivela un'arma a doppio taglio. Da un lato vi permette di entrare in profonda sintonia con il partner, dall'altro potrebbe far emergere vecchie ferite non del tutto risolte. È importante non chiudervi in voi stessi e cercare di comunicare apertamente ciò che provate. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno che sappia toccare le corde giuste del vostro cuore. Segno Leone. Oggi risplendi come un astro luminoso nel firmamento notturno. La tua aura magnetica catturerà l'attenzione di chi ti circonda. Non esitare a esprimere la tua creatività e il tuo amore con ondacia. Organizza un incontro romantico o sorprendi qualcuno di speciale. Il tuo gesto sarà ampiamente apprezzato. Ricorda. La forza autentica del Leone risiede nella sua capacità di ispirare gli altri. Sì il faro di luce che guida chi ti ama verso un futuro radioso. Abbraccia la tua grandezza e lascia che il tuo cuore indirizzi i tuoi passi. La vostra naturale inclinazione a primeggiare si manifesta anche nella sfera amorosa, portandovi a desiderare una relazione in cui possiate sentirvi apprezzati e ammirati. Tuttavia, questo bisogno di attenzioni potrebbe creare qualche tensione con il partner, soprattutto se vi concentrate troppo su voi stessi. Un atteggiamento più generoso e aperto al dialogo potrebbe risolvere eventuali contrasti. Per i single. L'amore si prospetta come una sfida intrigante. Ma fate attenzione a non lasciarvi sfuggire qualcuno di speciale per eccesso di orgoglio. Segno vergine. Oggi è il giorno ideale per riflessioni profonde e momenti di introspezione. La tua mente analitica ti permetterà di vedere le cose da una nuova prospettiva, specialmente nelle relazioni. Se hai qualcosa da dire, fallo con dolcezza e chiarezza. Dedica del tempo al tuo benessere interiore, magari attraverso la meditazione o la scrittura. Ricorda che anche i gesti più piccoli possono avere un grande impatto. Lavora per creare un equilibrio tra il tuo mondo interno e quello esterno, e vedrai sbocciare fiori d'amore. Nonostante il vostro approccio metodico alle questioni di cuore, le emozioni intense di ottobre vi travolgono, portandovi a riconsiderare alcune dinamiche nella relazione. Avrete l'opportunità di riflettere sui vostri desideri e di comprendere meglio le aspettative del partner. Un dialogo aperto e sincero potrebbe rivelarsi essenziale per evitare incomprensioni e fraintendimenti. Chi è singolo avrà modo di incontrare persone stimolanti, con le quali potrebbe nascere un legame profondo. Segno bilancia. Oggi l'armonia è la parola chiave. Le tue doti diplomatiche brillano e ti aiuteranno a risolvere eventuali tensioni. Sfrutta questa energia per rinsaldare i legami con le persone care. Organizza un incontro con amici o una serata romantica. I tuoi sforzi saranno ricompensati con gioia e risate. Sii aperto a nuove esperienze e non temere di esprimere i tuoi desideri. L'amore è una danza che richiede fiducia e collaborazione. Segui il ritmo del tuo cuore e lasciati trasportare dalla bellezza delle relazioni. Nonostante il desiderio di equilibrio, potreste sentirvi destabilizzati da alcune dinamiche nella vostra relazione. Le aspettative alte e il bisogno di perfezione potrebbero creare tensioni con il partner, soprattutto se vi concentrate troppo sui difetti altrui. Questo periodo vi invita a praticare la tolleranza e ad accettare le imperfezioni, sia vostre che degli altri. I single potrebbero sentirsi attratti da persone che incarnano un ideale di bellezza e armonia, ma attenzione a non idealizzare troppo l'altro. Segno Scorpione. Oggi la tua intensità emotiva può portarti a una connessione profonda con qualcuno. Non temere di aprirti. La vulnerabilità è un segno di vera forza. La passione è nell'aria. Quindi lasciati andare a momenti di intimità e autenticità. Medita sui tuoi desideri più profondi e chiediti cosa desideri veramente. L'universo ti ascolta e le opportunità si presentano quando meno te lo aspetti. Riempi il tuo cuore di coraggio e abbraccia il mistero dell'amore. Ricorda. Ogni esperienza ti avvicina a una versione migliore di te stesso. L'intensità emotiva è alle stelle. E le vostre relazioni risentono di questo turbinio interiore. Le passioni profonde si alternano a momenti di riflessione, portandovi a desiderare una connessione autentica e duratura. Se siete in coppia, potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, confrontandovi apertamente con il partner sulle vostre aspirazioni. I single, invece, dovranno fare i conti con vecchi fantasmi del passato. Ma avranno l'opportunità di lasciarli andare e aprirsi a nuove storie d'amore. Segno Sagittario. Oggi l'invito all'avventura risuona forte. La tua sete di esplorazione e scoperta ti condurrà a esperienze straordinarie, specialmente in campo romantico. Sii aperto a nuove conoscenze e situazioni. L'amore potrebbe sorprenderti nei luoghi più impensati. Non dimenticare di seguire il tuo istinto e di lasciare che la tua spontaneità ti guidi. Questo è il momento ideale per riflettere sui tuoi sogni e aspirazioni. Fai un passo verso ciò che desideri. Perché l'universo è pronto a sostenerti nel tuo cammino verso la felicità. L'energia esplosiva che vi caratterizza vi porta a vivere l'amore in modo avventuroso e dinamico. È un periodo in cui vi sentite particolarmente attratti da esperienze nuove e da persone che condividono la vostra visione del mondo. Le relazioni a distanza potrebbero trarre beneficio dalla vostra capacità di gestire con ottimismo le difficoltà, mentre chi è in coppia vedrà crescere la complicità grazie alla condivisione di progetti futuri. Tuttavia, fate attenzione a non trascurare le esigenze emotive del partner, spesso offuscate dalla vostra voglia di libertà. Segno capricorno. Oggi la tua determinazione e il tuo pragmatismo possono portarti a conquiste eccezionali. Se hai un obiettivo sentimentale, non esitare a pianificare e a mettere in atto strategie per avvicinarti alla persona che ti interessa. La tua capacità di essere realistico ti aiuterà a costruire relazioni solide e durature. Prenditi un momento per riflettere su ciò che realmente desideri nella vita e nell'amore. La pazienza e la perseveranza saranno le tue alleate. Ricorda. Ogni passo che fai è un investimento nel tuo futuro. Abbraccia la tua forza interiore. L'amore si dipinge con toni accesi di passione e comprensione. Le difficoltà incontrate negli ultimi tempi vengono superate grazie alla vostra capacità di introspezione e dialogo, rendendo il legame con il partner più profondo e autentico. Le nuove relazioni sbocciano come fiori di campo, spontanee e forti, mentre i legami stabili raggiungono nuove vette di connessione emotiva. Se stai cercando di riconquistare una persona amata, ora è il momento giusto per aprirvi e lasciare fluire i sentimenti senza timori. Segno Aquario. La tua creatività e originalità risplendono oggi. È il momento perfetto per condividere le tue idee innovative con chi ti circonda, sia in ambito professionale che personale. Non temere di esprimere i tuoi pensieri unici. Il mondo ha bisogno della tua fresca visione e del tuo approccio non convenzionale. In amore. La tua autenticità è irresistibile. Sì te stesso e lasciati andare. Potresti scoprire che qualcuno è attratto dalla tua singolarità e dalla tua capacità di vedere il mondo in modo diverso. Sì aperto a nuove esperienze e a connessioni inaspettate, perché l'universo ti sta invitando a esplorare territori nuovi e affascinanti. L'amore per la libertà e l'indipendenza potrebbe mettervi in difficoltà nelle relazioni sentimentali. La paura di perdere la vostra autonomia vi spinge a mantenere una certa distanza emotiva, ma questo potrebbe creare fraintendimenti con il partner. È il momento di riflettere su cosa desiderate veramente da una relazione e se siete disposti a fare qualche compromesso. I single potrebbero sentirsi attratti da persone anticonformiste e originali, ma fate attenzione a non allontanarvi troppo dalle emozioni. Segno pesci. Oggi la tua sensibilità e intuizione sono amplificate. Questo è il momento ideale per connetterti con le tue emozioni e per esplorare il tuo mondo interiore. Non avere paura di esprimere i tuoi sentimenti. La tua vulnerabilità può diventare un ponte per costruire relazioni più profonde e significative. In ambito romantico, potresti scoprire che la tua empatia e comprensione attraggono persone a te in modo magnetico. Abbraccia il tuo lato artistico, che si tratti di scrittura, pittura o musica. Queste espressioni possono aiutarti a canalizzare le tue emozioni e a connetterti con gli altri. Il romanticismo vi avvolge in una nuvola di sogni e speranze, portandovi a vivere ogni istante con grande intensità emotiva. Le relazioni prendono una piega poetica, grazie alla vostra sensibilità che vi permette di entrare in sintonia profonda con il partner. Se siete single, questo è il periodo ideale per incontrare qualcuno che sappia rispecchiare la vostra anima e condividere i vostri ideali. Tuttavia, cercate di non lasciarvi trascinare troppo dalle illusioni, mantenendo sempre un filo di razionalità.